Lord Sakai Kenji, che ci fai qui? Cerco di aiutare i feriti Ma posso solo fargli bere qualcosa di forte Come si consola chi ha appena perso un braccio? Non lo so Taka sapeva sempre cosa dire Mi manca quel ragazzo Manca a tutti Riposa un po' Ci provo Non lo so Jinn. Lady Masako, sei viva? Molti hanno avuto meno fortuna. Non ero quei miei figli quando morirono. Ma cercherò di alleviare il trapasso di questi giovani. Lord Shimura vuole continuare l'attacco all'alba. Vorrei che ci fosse una strategia che risparmiasse qualche giovane vita. Forse c'è. Fa quello che devi. Hai il mio supporto. Di nuovo. Esercitatevi. Sensei, Lord Shimura vuole riparare il ponte. Colpiremo all'alba. Il Khan non si aspetta una mossa così audace. L'esitazione ci costerebbe più cara. Avrei un'altra idea. Una che viola il codice d'onore di tuo zio? Una in grado di salvare vite. Fa attenzione, Sakai. Non concordate? Non ho detto questo. Non ho detto questo. Grazie a tutti. Farò di tutto per assicurarvi forza e sicurezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vuoi avvelenare il mongo? Mi infiltrerò nel castello e glielo farò bere. Voglio vedere il Khan strozzarsi col suo sangue. Tuo zio lo scoprirà? Lo so. Taka stava preparando una cosa per te. Non lo so se la vuoi, ma... Beh... Se ti dovesse... Non succederà. Vorrebbe che l'avessi tu. Questo è tutto lo strozzalupo che c'è. E' sufficiente. Me lo farò bastare. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uccido le guardie senza far rumore, poi parto dall'ultimo piano. Grazie a tutti. 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 Passiamo per il giardino. a tutti. 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 Tengono qui le scorte di latte. Versiamo il veleno. Ora aspettiamo. E nepposta toga. Sì! No, 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 no. 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 Dì alla gente che ero la tua spia, che dovevo farmi amico il cagno. Crederanno allo spesso. Basta! Ci conosciamo da una vita, Ryuzo. Arrenditi e rispondi dei tuoi crimini per il nostro bene. Non posso. Dovevi arrenderti. Non morirò per mano di tuo zio. Non ti fermerai, Ryuzo. Quel veleno infrange il codice di tuo zio. Non avevo altra scelta. Non ti fermerai, Ryuzo. Non ti fermerai, Ryuzo. Non ti fermerai. Non ti fermerai, Ryuzo. Non ti perdonerò mai. Non ti fermerai, Ryuzo. Grazie a tutti. Jyn. Ti prego. Addio, Ryuto. Vai. Vai. Il castello è tuo. Il Khan va a Nord. Lo fermeremo. Mi hai sfidato. Ho dovuto farlo. Per loro. È così che vuoi essere ricordato. Ci ha difesi. Seminando il caos e la paura. Siamo in guerra. E ti comporti come il nemico. Non è il nostro codice. Il tuo codice non può salvarci. Lo shogun esigerà una testa, ma non deve essere per forza la tua. So bene chi ti ha convinto. Sio. Rinuncia allo spettro. Lei deve essere incolpata di questo scandalo. Di che tu sei Jyn Shimura, servo fedele dello shogun. Il mio erete. Mio figlio. Non sono tuo figlio. Sono lo spettro. E sarai condannato per questo. Trova il caos. Jyn. Bertaka. Vai! Temo evo. Abb crustare. 呢g. Neluncia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che stai facendo? A voi cosa sembra? Andiamo! Se scappo, non riunirò il nostro popolo contro il Khan. E non riacquistarò la fiducia di mio zio. Se restate vi manderà dallo Shogun per farvi processare. L'ordine è appena arrivato. La gente ha bisogno di voi e anche Yuna. Dov'è? A nord, insegui il Khan tra le lande di ghiaccio alla vostra spada. Sta aspettando lo spettro. Perdonami, zio. Trova Masako, Norio e Sensei Ishikawa. Portali a Omi. Apriremo un passaggio e voi ci raggiungete. Vi sta aspettando Akin con le vostre cose all'albero sacro. Il vostro cavallo è nelle stalle esterne. Mi hanno detto di una recinzione danneggiata vicino alla porta. Potete uscire da lì. Distrarrò gli uomini qui fuori, ma sparirò prima che si accorgano della fuga. Grazie, Kenji. E' colpa di quel dannato spettro. Il cane se mi saluto, non merita il titolo di sangue. No. Il modo incredibile ha usciso. Non sembrava umano. Non sembrava umano. Siete lo spettro. Silenzio, per favore. C'è una recinzione danneggiata poco avanti. Potete uscire da lì. Grazie. E di nulla. Siamo tutti con voi. Non è giusto essere così severo. Lord Sakai ha avvelenato tutti i mongoli. Così la guerra continua. Grazie. 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 Qualcuno l'ha visto? Potrebbe essere diretto al nord. Voi due, ai cavalli. Voi altri, alla porta. Voi due, ai cavalli. dobbiamo raggiungere chi uno ci aspetta l'arri che ori sono tochi che chiedi Sì, 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 sì. Tu arè si, si dè, arè Orale, 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 orale. Orale, 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 orale. Orale, 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 orale. Orale, 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 orale. Orale, 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 orale. Orale, orale, orale. Forse Yuna è ancora viva. Kenji ha detto che Yuna è all'albero sacro. Niente armi. Devo restare nell'ombra. Tempeste è in arrivo. Devo trovare Yuna. 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 Yuna. Devo trovare 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 Yuna. Non ero sicura che ti svegliassi. Nemmeno io. I mongoli mi hanno somministrato il mio veleno. Come l'hanno avuto? Non lo so, ma hanno imparato a farlo da soli. L'avranno testato sulla gente di Kin. Prima che bruciassero la città, ho visto famiglie riversa in pozze di sangue. Poniamo fine a tutto questo. Uccidiamo il Kotunkan. Ha portato il suo esercito in una fortezza sulla costa, al porto di Izumi. Dovremmo accamparci lì vicino. Cerco il necessario. Le tue cose sono in quella cassa. Quando sei pronto, vieni alla torre di guardia. Cerchiamo Yuna. Il nostro corso è un'altra città. Grazie a tutti.